movimento dietro la macchina, si va in partenza Ottava ed ultima corsa di Palermo, un miglio per anziani di categoria G che ha raccolto 14 adesioni, favori al gioco per il numero 7 si tratta di Rughi delle Selve, si va allo stacco stacco che avviene in questo istante dunque i cavalli vanno più di tutti il 4 di Overhoff Clu Day che come un po' da copione va a assumere l'iniziativa prova a tenere lo steccato d'Este d'Asolo che Antonio Velotti è riuscito a far partire più sollecitamente del solito e riesce a conquistare il terzo posto in corda perché in seconda posizione si sistema Prevert Griff lasciando all'esterno oriente dei sogni dunque Gaetano Di Nardo con Overhoff Clu Day a condurre le operazioni nei confronti di Pevert Griff e Odette d'Asolo è rimasto di fuori e tende a retrocedere oriente dei sogni oriente dei sogni nella cui scia in seconda pariglia vediamo il numero 11 di Poldo di Drago che punta già in avanti è un Poldo di Drago che ha iniziato davvero bene questa corsa di rientro trova però l'anticipo di Antonio Velotti con Odette d'Asolo che a traguardo lontano preferisce abbandonare il terzo posto in corda per andare all'esterno nel frattempo Gaetano Di Nardo non lesina certo energie con Overhoff Clu Day che tende a prendere vantaggio piuttosto consistente sugli avversari ed affronta la retta di fronte alle tribune con almeno 5 lunghezze su Pevert Griff che ne ha già abbastanza scavalcato comunque da Odette d'Asolo dietro la quale prova a venire avanti anche Poldo di Drago nel frattempo il vantaggio di Overhoff Clu Day appare davvero rassicurante per chi ha avuto la buona idea di appoggiarlo buono almeno per quello che si è visto sinora davvero un vantaggio oceanico prova a rinvenire Odette d'Asolo mentre Poldo di Drago che ricordo era rientro appare piuttosto stanco e deve quindi difendere a denti stretti il terzo posto passerella finale per Overhoff Clu Day e Gaetano Di Nardo vittoria amplissima per l'allievo di Mimmo Zanca resiste bene per il secondo posto il numero 1 di Odette d'Asolo mentre al terzo posto filtra ed conclude Royal Cosmos Bici ha vinto dunque da contro favorito Overhoff Clu Day quota davvero molto ghiotta secondo me di 3,86 Gaetano Di Nardo in sediolo training di Domenico Zampka i colori sono del signor Maurizio Cucinotta ha accorso devo dire molto bene anche Odette d'Asolo che alla fine ha preso un secondo posto più che soddisfacente non ha accorso neanche male Poldo di Drago che al rientro ha pagato la durezza della corsa e si è dovuta rendere nel finale sicché al terzo posto è emersa una convincente Royal Cosmos Bici in numeri dunque 4,1,8 l'ordine d'arrivo ancora da confermare dell'ottava ed ultima corsa di Palermo Pietro Di Salvo vi saluta e dalla favorita è tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.